È passato ormai un anno dall'inizio del Covid e dai primi casi che sono stati registrati anche nella provincia di Pesaro Urbino. Poco più tardi sono arrivate anche le ripercussioni economiche di questa pandemia che ha interessato anche le attività e i locali della nostra città. Ripercussioni economiche che possiamo vedere anche in centro storico con le tante vetrine e i tanti negozi che hanno chiuso in questo anno di pandemia. Abbiamo perso oltre 40 attività in un anno tra il servizio ristorativo, il gruppo ORECA, i pubblici esercizi e le attività normali come possono essere i negozi che noi camminando lungo Via Branca basta soltanto vedere quanti negozi sono sfitti. Una moria così non si era mai vista. La cosa brutta è che quei negozi sfitti non vengono recuperati subito perché in questo momento aprire è da pazzi. La cosa più brutta in questo momento secondo me è proprio l'idea di non sapere che cosa succede domani e non sapere cosa succede domani vuol dire non sapersi organizzare oppure programmare nel breve o medio termine un lavoro. Il diritto costituzionale al lavoro è stato calpestato pesantemente sia dal Covid sia dal DPCM che sono stati attuati nel 2020 e in più l'ultimo DPCM è oggi ancora più restrittivo rispetto ai precedenti. Quindi sicuramente al problema sanitario che è un problema serio si aggiunge quello socio-economico che è pesante. Noi abbiamo perso il Natale dicendo che ce l'avrebbero comunque garantito l'abbiamo perso. Stiamo perdendo la Pasqua e la mia paura più grossa è che questo non abbia delle ripercussioni anche nella stagione balneare, nella stagione turistica. Perché se dovesse mai succedere anche quello non conteremo soltanto qualche decina di attività. Io gli amici miei che hanno tutte le attività sono tutte persone che hanno difficoltà economiche grossissime e stiamo parlando con decine di migliaia di euro di perdite. Perché? Perché non sono in grado di poter lavorare. Sul Comune io non posso dire assolutamente nulla. Tutto quello che potevano fare tenendo in considerazione che le amministrazioni piccole come possono essere il Comune o le regioni rispetto al DPCM nazionale potevano soltanto attivarsi in maniera restrittiva al DPCM. Ci hanno dato l'opportunità di avere dei ristori. Per esempio i 500.000 euro tra virgolette regalati dall'amministrazione comunale per il 40-50% della Tari è un gesto importante che il Comune ha fatto. Perché si rende conto che come dicevamo giustamente nei giorni scorsi nel momento in cui il sistema crolla se calano le ditte ci sono i licenziamenti. Se ci sono i licenziamenti gira meno denaro. Se gira meno denaro invece di creare ricchezza crea povertà. La povertà che cosa va a incidere? Incide sulle attività. Che cosa succede? Le attività chiudono, le tasse e tributi imposte vengono meno e il sistema tra virgolette implode. Questa è la più grossa preoccupazione dal punto di vista economico che noi onestamente paventiamo da qualche mese.